Oggi è una giornata speciale, siamo a Palazzo Paolo V con Tamburo che presenta il primo album, Randaggi di Dio. Prima di tutto, da dove ti è arrivato questo titolo particolare? Allora, Randaggi di Dio è un forte richiamo a un film cult che mi ha molto colpito nella mia crescita che si chiama appunto The City of God, la città di Dio. In questo film ci sono questi ragazzi che fondamentalmente popolano le strade della Rio dimenticata da tutti, dimenticata anche da Dio, che vengono chiamati Randaggi e quindi Randaggi di quartiere, io li ho poi trasformati nei miei Randaggi fondamentalmente, nel senso perché io penso che le difficoltà e le caratteristiche che possono governare un quartiere popolare sono nelle sue limitazioni e nelle sue esagerazioni un po' uguali che fosse la periferia di Benevento, la periferia di Napoli, la periferia di New York e tutte le periferie del mondo e appunto anche quella di Rio. Quindi fondamentalmente appunto da questo io credo che i ragazzi sono il motore e il futuro appunto, quindi i miei Randaggi li ho trasformati dalla città di Dio ai Randaggi di Dio. Che direzione sta prendendo Tamburo musicalmente parlando? Allora Tamburo è molto diverso da come ha iniziato, cosa che penso sia anche normale in 11 anni di percorso. È partito avendo una rabbia dentro, una rabbia sociale che ha scaturito poi insomma tutto il percorso iniziale di Tamburo per poi prendere forse più consapevolezza e quindi poi arrivare a questo disco dove penso che la maturità raggiunta sia nella vita personale quindi che artisticamente, ho cercato di concentrarla tutto in questo primo EP. Cosa ti aspetti da questo album? E soprattutto la scena rap beneventana insomma è abbastanza in fermento ultimamente? Allora la Benevento Rap è in fermento perché fondamentalmente superate delle barriere che purtroppo ci vengono messe addosso anche in maniera purtroppo forzata, cioè ovvero quella dell'invidia, quella di non collaborare, quella del proprio giardino perché io sono più bravo di te. Superato questo con intelligenza dalla parte delle nuove generazioni riusciamo a fare gruppo e quindi appunto nasce Benevento Rap, la Benevento Rap che ci piace, che collabora e che vuole appunto far capire anche che comunque gli artisti di questa città non hanno nulla da invidiare ad artisti nazionali che hanno avuto una grande, magari stanno avendo un grande successo ma che artisticamente appunto non ci manca niente da quello e quindi che la scena beneventana può fare di più. Questo album per me nel mio piccolo vuole insediarsi in questa scena anche partendo da Benevento. Grazie